Per dire basta, siamo qui tutti insieme perché i cittadini si stanno riprendendo il loro Stato. I cittadini devono riprendersi uno spazio che la mafia ha occupato perché lo Stato era latitante. Vi voglio dire una cosa, la mafia non è solo quello che vi hanno detto, la mafia è molto altro. Adesso a Roma stiamo parlando di Olimpiadi 2024, noi a Roma abbiamo problemi ovunque, sembra che non ci siano mai soldi per fare nulla per le strade, per i servizi. Abbiamo visto poi dove vanno a finire i soldi e nonostante questo si parla di Olimpiadi come se ne avessimo bisogno. E sapete perché se ne parla? Perché le Olimpiadi sono soldi, sono altri soldi, miliardi di euro che vengono immessi in un circuito corrotto, mafioso. Si signore, che vengono immessi in un circuito malato, drogato e solo una minima parte di quei soldi potrà andare a pagare i servizi. In realtà tutto il resto continua a fluire nelle casse della mafia, della corruzione. Noi dobbiamo dire no alle Olimpiadi, come abbiamo detto e diciamo no alla mafia. Noi continuiamo ad opporci a questo modo scellerato, criminale, di fare politica. Basta! Fuori la mafia dallo Stato! Fuori la mafia dallo Stato! Fuori la mafia dallo Stato! Fuori la mafia dallo Stato!